Come si è Star Native? Una curiosità, una domanda importante per noi giovani chi fa della sostenibilità, una passione, ma vorrebbe farne anche un lavoro. Quali skills e quali competenze possono essere utili affinché questo desiderio possa diventare realtà? Innanzitutto capisco il desiderio perché io ho la fortuna di fare un lavoro che amo, ho avuto la fortuna di iniziare questo lavoro e occuparmi di sostenibilità e quindi lo consiglio a tutti. Quello che mi spinge ogni giorno è la curiosità, ascoltare il cuore rendendomi conto che è necessario impegnarsi molto perché le persone, il pianeta ha bisogno di persone che si impegnino per il bene comune. Quindi sicuramente curiosità, sicuramente impegno, tanto impegno perché non sempre si incontrano persone che inizialmente sono sensibili al tema o quantomeno non ne avvertono la vicinanza, quanto siamo in realtà connessi con questo tema tutti quanti. E poi darsi da fare, darsi da fare è fondamentale. Ecco questo credo curiosità e impegno credo che siano davvero le caratteristiche determinanti. Io mi auguro che ci siano tante persone come te, come me, ma come te che comprendano l'importanza della sostenibilità, che si appassionino, tanti sustainability manager per il futuro fino al punto in cui saremo tutti i sustainability manager e quindi non ci sarà più bisogno della sostenibilità perché il mondo non avrà più bisogno di persone specializzate in questo e quindi sarà il massimo della vita. Grazie. Un bel augurio, grazie.